Nella notte tra martedì e mercoledì scorsi i carabinieri di Carini hanno arrestato quattro persone che hanno rapinato il bar Soleado a Villa Grazia di Carini. I malviventi, con il volto coperto da caschi integrali ed armati di una pistola, hanno chiuso i dipendenti del locale in uno stanzino. Dopo la rapina, i quattro si sono allontanati a bordo di due autovetture. I militari, a stretto giro di posta, li hanno individuati nell'abitazione di uno dei componenti della banda, mentre ancora si stavano spartendo il bottino. Più di 500 pacchetti di sigarette ed una macchinetta a cambia monete con poco meno di 1000 euro all'interno. A seguito dell'eruzione è stato bloccato il padrone di casa, mentre gli altri tre si sono dileguati nelle campagne circostanti. Nell'abitazione sono state trovate anche due pistole a salve, del tutto identiche ad armi vere. L'attività investigativa sviluppatasi nell'arco dell'intera notte ha permesso di individuare i complici e di arrestarli presso i propri domicili. Sono così finiti in manette i quattro rapinatori, tutti i volti già noti alle forze dell'ordine e condotti presso il carcere Paiarelli, su disposizione del pubblico ministero di turno. Il GIP ha convalidato gli arresti per i reati di rapina mano armata e sequestro di persona.